Ci troviamo in un momento di grandi cambiamenti politici, economici e sociali e chi si occupa della giustizia deve fare fronte a questi cercando di adattare l'approccio professionale ed etico ad ogni singolo caso. Noi penalisti ci stiamo ponendo delle domande sulla nostra professione e sul modo in cui operiamo e sapere qual è la vostra opinione sui temi che affrontiamo ogni giorno è un aiuto prezioso. Ecco il perché di questo nuovo format. Vi faremo delle domande ed ascolteremo le vostre risposte cercando di capire dove la società ha virato o sta virando. Oggi abbiamo posto tre domande ai cittadini. A cosa serve o dovrebbe servire il carcere? È giusta la carcerazione preventiva? È giusto usare un'arma per difendere la propria casa? Il carcere dovrebbe servire per la rieducazione del detenuto, della persona che purtroppo ci finisce dentro. Serve per rieducare in teoria le persone che hanno fatto qualcosa di sbagliato. Io sono convinta che sia necessario un ambiente riabilitativo più che volto a punire perché bisogna comunque pensare che sono persone che si possono compiere degli errori più o meno sbagliati, però bisogna pensare anche sempre al dopo. Il carcere deve essere educativo, altrimenti è una pena di morte. E cosa pensi invece della carcerazione prima di una sentenza definitiva? Penso che non sia giusto. Non sia giusto perché comunque bisogna avere anche un minimo di certezza per finire in carcere. Anche la legge deve interpretare in modo giusto la motivazione, nel senso che se ho cinque prove per le quali io devo andare in carcere, ok, ma se ne ho una su cinque, no, allora, aspetta un attimo, non mi mettere già in carcere, anche perché magari posso, io come persona posso iniziare a rimediare, lo so, posso cominciare a cambiare già vita, lo so, sono molto ottimista io. Esclusivamente nei casi in cui un soggetto molto pericoloso potrebbe sfuggire alla giustizia. Questo forse sì, perché ci sono alcuni casi in cui i soggetti possono rappresentare dei pericoli anche per la società, quindi in alcuni casi potrebbe essere giusta. Pensi che sia giusto utilizzare le armi per difendere la propria privata dimora? Ritengo forse sia una misura leggermente eccessiva rispetto anche al reato che si commette di violazione dell'omicidio. Non lo so, sinceramente, perché anche una persona che ti entra in casa di sera e tu ti ritrovi con questa persona davanti, magari, forse potrebbe essere anche giusto, però sparare, tipo, io non ci riuscirei.